Oggi, proprio nella giornata in cui si ricorda l'autismo, dovremmo ricordare che dietro ogni bambino con autismo c'è una persona unica e speciale. Ciao, sono Elettra, ho 14 anni e il mio colore preferito è il rosso e mi piace andare al madre, fare le immersioni e i tuffi e mi piace ascoltare la musica e cantare e ballare e ho due cani e da grande boh, io farò la veterinaria e adesso vi recito una fila strocca, tu non sei come me, tu sei diverso, ma non sentirti perso, anche io sono diverso, siamo in due due, se metto le mie mani con le tue, certe cose so fare io e altre tu, insieme sappiamo farne anche di più, tu non sei come me, sono fortunato, davvero ti sono creato, perché noi siamo uguali, vuol dire che tutti e due siamo speciali. Ciao amici, sono Federico, ho 16 anni, a me piacciono i cartelli derivati, mi piace nuotare, mi piacciono i viaggi, mi piacciono studiare, mi piacciono i giochi, mi piacciono i film, mi mi piacciono i miei cibi preferiti e mi piace fare tutto quello che voglio, ciao ciao! Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.